Cosa abbiamo dentro questa scatolina? Cosa abbiamo? Cosa ci sarà? Cosa ci sarà di talmente utile? Tadam! Small Rig! Il Magic Arm! Andiamolo a vedere in dettaglio. Ciao a tutti da Marco Cristia Salvati, eccoci qua al nostro appuntamento tecnico. Oggi parliamo di una ditta molto molto bella. Si chiama la Small Rig, che molti di voi già la conosceranno ampiamente, perché è sul mercato da un po'. E propone delle attrezzature che veramente sono poca spesa e tanta, anzi tantissima resa, sono fatti ad arte questi prodotti. Oggi, nello specifico, parlo del Magic Arm. I prodotti che realizza sono praticamente destinati ai professionisti e sia anche a dei videomaker, assolutamente sì. Prezzi abbordabili e, come ripeto, tanta, tanta tecnica realizzato bene e tutto quanto. Magic Arm! Io ho preso quello più piccolino, quindi c'è anche, ecco appunto, la vasta gamma di scelta. Non esiste plastica. Tutto quello che vedete è alluminio, acciaio, ma non c'è niente di plastica, assolutamente. Possiamo notare che ci sono due teste, ovviamente, per ogni braccetto, con dei bulloni a passo with the word, inglese, da un quarto di pollice. Ma queste teste sono bloccate, completamente bloccate, anche queste ghiere qua, una e una, due, sono bloccate. Bene? Allora, quando io vado ad allentare questa farfalla in alluminio anch'essa, e voglio farvi anche vedere che c'è scritto lock e unlock, cioè sblocco e blocco, cioè anche, chi non sa il verso di dove si abita, c'è scritto anche sopra, guardate, non mi manca niente. Ecco, vedete, già si è mossa, perché io quando allento questa farfalla, vedete, va a sbloccarmi la testa, qua, vedete, una e due, in tutte e due i bracci, perché è un funzionamento abbastanza semplice, tanto quanto efficace, perché dentro c'è, per ogni braccio all'interno ci sono due stecche, che qui finiscono, che sono tagliate a 45 gradi più o meno. Quindi quando io vado a stringere la farfalla, slittano l'una con l'altra, e praticamente la stecca sale, e va a bloccarmi la sfera, questa qui, questa all'interno, questa sferetta qui. Bene? Quindi come vedete posso snodare questa testa, ovviamente la stessa cosa è analoga di qua, è gemella, a 360 gradi, e c'è questa ghiera, che ha un incavo, e posso metterla a 90 gradi, come potete vedere, e posso anche girarla, ruotarla, a mio piacimento. Ovviamente c'è anche il controdato, perché se noi abbiamo un monitor, un faretto da montare qui sopra, che praticamente ha una filettatura di tot filetti, e questi sono troppi, ovviamente agiamo col controdato sotto per stringere il tutto. Per non far rovinare nulla, perché anche questo controdato è d'alluminio, c'è una O-ring di gomma, quindi non va metallo contro metallo, non va a graffiare un monitor molto importante, che costa un po', eccetera, eccetera. Ovviamente poi io quando allento la farfalla, qui c'ho delle rosette, o rosette, insomma, come vogliamo chiamarle, che le faccio vedere meglio, più in dettaglio, eccole qua, una e una due, che una volta serrato, non si muovono più, perché io vado a stringere i denti delle rosette, non, vedete, ovviamente bloccano, le classiche rosette. Allentando tutta quanta la farfalla, c'è come vedete una rondella, ma come potete ben vedere è scanalata, c'ha un solco, ok? Perché questo? Perché se io vado a farvi vedere come è fatta la farfalla all'interno, guardate, ha dei cuscinetti a sfera, ha dei cuscinetti a sfera, ragazzi, cioè è incredibile, guardate, ecco quando gira qua, i cuscinetti ruotano su quella pista, cioè è pazzesco. Benissimo, io a questo punto posso prendere una cosa che già ho, questo qui, il morsetto, sempre dell'omonima marca Smallrig, con un piccolo altro braccio, un mini, proprio mini, vedete, si snoda, c'è sempre il bullone da un quarto di pollice e praticamente il controdato con sempre la gomma sopra per non far rovinare, come dicevo, poc'anzi, i monitor costosi, i faretti costosi, eccetera, eccetera. Vado a svitare, perché sta avvitato sempre con l'un quarto di pollice Whitward e mi rimane il mio, la mia ganascia che si apre tantissimo, ma veramente tanto, tutto un blocco d'alluminio, pazzesco, è una grande tecnologia che può prendere le sezioni tonde come anche uno spigolo, ad esempio di un tavolo, va bene? Allora, qui abbiamo detto che, l'ho appena svitato, abbiamo l'un quarto di pollice, ma ho anche qui il tre ottavi, ho tutte e due le misure, tre ottavi e un quarto. Io proprio su questa da un quarto vado a prendere il mio Magic Arm e vado praticamente ad avvitarlo. Ecco qui. Ecco come si presenta il tutto. Certo, questo per ora posso metterlo da parte, ovviamente. il mini braccetto, sempre tutto in alluminio, come vedete, con due teste snodate con il perno sferico e praticamente mi ritrovo il mio bellissimo Magic Arm pronto per essere fissato un po' ovunque, perché grazie alla ganascia, ok, al morsetto, posso praticamente fissarlo ovunque, poi allento, faccio ruotare come voglio, regolo le teste e poi vado a bloccare il tutto. blocco le due rosette e le teste con quel sistema che vi dicevo prima. Altra cosa molto bella che apprezzo molto da tecnico è che con la SmoRig io già mi sporco le mani di olio, perché non vendono mai le cose a secco, questo da tecnico lo apprezzo veramente tanto. Ci mettono anche l'olio loro, le lubrificano le cose. Benissimo, questo è il nostro Magic Arm, grazie per la visione e ci vediamo alla prossima puntata che riguarda i mezzi tecnici.